Questa sera parlerò qui dai frati dominicani di Bologna di bene comune, di bene comune e dottrina sociale della Chiesa all'interno di una serata dedicata al ruolo dei cattolici in politica oggi. Mi soffermerò soprattutto su due aspetti del bene comune che secondo me sono importanti e che possono orientare i cattolici nella loro presenza e nella vita pubblica. Il primo aspetto è questo. Normalmente si pensa che il bene comune sia davanti a noi e che noi dobbiamo lavorare, partecipare, darci da fare per conseguirlo, per raggiungerlo. E questo è vero. Evidentemente il bene comune, la giustizia, la tutela della persona sono obiettivi da raggiungere davanti a noi. Ma spesso si dimentica che in un certo senso il bene comune è anche dietro di noi. Nel senso che è l'ordine della società da cui noi proveniamo, perché lì siamo nati e siamo stati educati, e che dobbiamo, nei suoi aspetti positivi, mantenere e difendere e tramandare. Pensiamo, per esempio, a cos'è la famiglia per un nuovo nato. È per lui un bene comune. E rappresenta in lui qualcosa di ricevuto, non qualcosa che lui costruisce. Certo, poi lui dovrà mantenerla, la famiglia, difenderla, promuoverla. Così facendo, costruirà anche il bene comune futuro. Ecco, questo è un primo aspetto che vorrò mettere in evidenza, perché spesso si pensa che il bene comune richieda una specie di progressismo esasperato, invece spesso richiede anche la difesa, la conservazione di ciò che abbiamo ricevuto. Il secondo punto su cui mi soffermerò è la verticalità del bene comune. È vero che il bene comune è il bene temporale, è il bene di qua giù, però il bene di qua giù non è possibile farlo senza Dio, cioè senza il bene di lassù. L'ordine naturale non è autosufficiente, non sa da sé darsi i propri fini e i propri fondamenti. Ecco perché insisterò molto a illustrare il tema della laicità, che nella prospettiva che presenterò io non significa esclusione di Dio nella pubblica piazza, ma significa invece un rapporto sano, circolare, tra la ragione politica e la fede religiosa.